Sulla vicenda dei collegamenti con la capitale in merito al nuovo orario estivo che entrerà in vigore dal 9 giugno prossimo, interviene il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, che dichiara Siamo alle solite, ancora una volta la capitanata viene penalizzata, infatti ben due frecce argento che collegheranno Bari e Roma, fermeranno nella stazione intermedia di Barletta, escludendo Foggia Infatti, continua Gatta, ormai per Trenitalia saltare Foggia è nella norma, adesso basta nel vessare un bacino di utenza, tanto vasto, la capitanata merita ben altra considerazione, prosegue Gatta Certo far nascere a Foggia alle 5 di mattina, il diretto per Roma appare riduttivo, visto che quello è il vecchio treno dalle 5.50 da Benevento Comunque, un orario scomodo per chi viene dalla provincia Ripeto, dice Gatta, come già affermato in passato, l'alta velocità o alta capacità non devono essere pretesto per ghettizzarci Confido di un intervento responsabile per quanto di loro competenza da parte di tutti i parlamentari daoni Insisteremo contro l'Italia, Rete Ferroviaria e Ministero dei Trasporti e Infrastrutture per ottenere la giusta attenzione Ripadiamo con forza come collettività che pretendiamo una mobilità su rotaia all'altezza dei tempi Ha concluso il presidente della provincia